Bravissimo Guidi in mezzo al campo elude il pressing di Zibikov poi può attaccare qui sulla sinistra la montagnola cross in mezzo Guidi con lo scorpione e poi il tiro da un passo dal vantaggio la montagnola azione bellissima Guidi lotta il numero 9 poi entra in area di rigore poi pallone che resta il tiro blocca al portiere dello Sporting altra chance per la montagnola Guidi va da Campoli posta il pallone sul destro Campoli in area di rigore Campoli finta e controfinta il tiro finisce fuori la conclusione di Campoli ottima la giocata non è perfetta l'esecuzione Campoli bravo qui di prima Campoli poi ancora continua l'azione della montagnola la Guidi il tiro e sfiera il gol il numero 9 ci ha provato con la conclusione da fuori primo tentativo del secondo tempo e del capitano della montagnola espulsi Gligor e Fox partita che finisce 0 a 0